Allora, vi do un extra per concludere questa serie di video brevemente su non è uguale il cristianesimo, ma gli ebrei. Può sembrare assurdo, ma esiste una minoranza di ebrei che sono contrari allo Stato di Israele per via delle barbari alle confronti dell'Ostato paghersinese. L'idea del sionismo deriva dalla Bibbia, in cui si parla della terra promessa per gli ebrei, cioè Israele. Secondo questa minoranza, però, Dio avrebbe promesso la terra promessa, appunto, agli ebrei qualora se la fossero meritata. Beh, secondo questi ebrei, a cui moltissimi rabbini, parlando di rabbini ortodossi, studiosi della Bibbia, loro non la meritano. Quindi questa è l'interpretazione della Bibbia, secondo cui gli ebrei avrebbero diritto alla della terra promessa, sarebbe sbagliata, che in realtà gli ebrei attualizzano delle cose che non se la meritano affatto. Io vi metto in descrizione siti anche di rabbini ebrei ortodossi che sono contrari allo Stato di Israele e al sionismo in generale. Poi lascio valutare a voi. E questo ve lo dico per quale motivo. Molti continuano a confondere la traduncia di quanto sono sbagliate le barbarie dell'Ossero di Israele nei confronti del popolo palazzinese con l'antisemitismo. Non può un ebreo essere antisemita, non può essere un ebreo del proprio popolo. Dire che lo Stato israeliano fa dei crimini contro l'umanità nei confronti di qualcun altro non vuol dire che gli ebrei in nessuna maniera sono tutti cattivi, che sono sbagliati. Non è questione di opporsi all'ebraismo in sé. Si tratta di... Ma nemmeno in realtà di essere contro il sionismo, perché magari uno può anche avere le sue ragioni. Si sarebbe il principio di autodeterminazione dei popoli, per cui... diciamo, gli israeliani, cioè gli ebrei, posso dire, noi siamo un popolo, vogliamo una nazione. Noi possiamo anche discutere su questo. Per questo c'è chi parla della soluzione dei due stati. Ma che un tempo forse era fattibile. Oggi non più, perché non è più rimasto niente dello Stato palazzinese. Ci siamo a mangiare di tutto. Basterebbe guardare le cartine geografiche dello Stato di Israele e del Stato palazzinese. Non è rimasto più niente, a parte la striscia di Gaza e pochi altri... I viaggi, mi pare anche a Gisgiordania, se non ricordo male. Non è rimasto più niente di quello che doveva essere lo Stato di Israele. E questo ad alcuni ebrei non va. Anche se, in teoria, Israele avreste lo Stato che rappresenta, in realtà non va. Anche gli israeliani stessi. Questa è una cosa che ci tengo molto a dirvelo. Anche se questi video non riguarda praticamente nessuno. Tanto inutile.